Visto che Tiffany è da un pochino di tempo che non riusciamo a vederla, oggi siamo qua con questa bellissima Kate per cercare di trovare una sostituta proprio a Tiffany Ma... 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 Tiffany... Cosa fa... Cosa... no vabbè... Sei più contenta adesso? Ma spiegami come... cosa fai qua? Sei sparita per mesi? Ah... Eri in vacanza? Sei diventata ricca? Quando è che sei diventata ricca? In vacanza Ma cos'hai fatto in vacanza? No 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 lo voglio sapere, non lo voglio sapere, non lo voglio sapere No lascia sta... No lascia sta... Non dirmelo certe cose Ma come sei vestita? Cosa fai la sfilata? Madonna Ma allora è vero che sei diventata ricca? No scusa Tiffany fai vedere anche le scarpe per piacere Guardate che scarpe che ha Tiffany Beh mi spieghi come se... No non voglio saperlo come sei diventata ricca Però direi che si vede da questo completo finto Chanel Cosa c'è? Non è... Sì dai non è finto Chanel Cosa mi guardi così? Dai toglili questi occhiali Non è finto Chanel No vabbè dai se adesso è uno Chanel vero Sì Tiffany me l'hanno dato su tema quel completo Non so se te lo ricordi No vabbè l'ho preso da Chanel Vabbè Comunque perché hai cambiato lo sfondo? E cos'ha quella lì? Non sarà mai te? Ma come dai Tiffany? Per piacere anche meno Anche meno piano Tiriamocela meno Posso comunque vederla questa Kate? No Ma guarda che uguale a te Non urlare Non urlare Non urlare Dai torna lì Allora io adesso ti sposto Perché mi hai rotto già le balle Cioè lei sparisce per mesi Ma mi ha anche zoomato la videocamera Sì mi ha zoomato la videocamera Lei sparisce per mesi Poi quando torna Rompe le scatole Vabbè ok La regina no? La queen Cosa? No non sei la queen Via vai via Allora Dicevamo Che oggi siamo qua Con questa Kate Così nell'eventualità In cui Tiffany Dovesse tornare in vacanza Dimmi Non eri in vacanza Ma me l'hai detto tu Che eri in vacanza Stavi lavorando Sì ho capito che stavi lavorando Io ho anche intuito Che tipo di lavoro Quindi lasciamo stare Comunque nel caso in cui Tiffany Dovesse tornare a lavorare O in vacanza Vediamo se questa Kate Può essere una degna sostituta La scatola è effettivamente A tutti gli effetti Una scatola da collezione Come vedete Bellissima Molto resistente È realizzata benissimo Ci lascia vedere completamente La bambola all'interno Possiamo vedere anche I suoi accessori Quindi è proprio La classica scatola da collezione Che non copre nulla della bambola Possiamo addirittura Vederle bene anche i piedi Sul retro Vediamo gigantesco Il nome Kate Esattamente come era Nella scatola di Tiffany Ancora Cosa vuoi? Tiffany amore mio La scatola tua era così No Ok La tua era più bella Guarda avrei qualche dubbio Vuoi che guardiamo? Guarda che se mi sfidi Guardiamo allora Questa era la tua scatola Questa bambola si presenta già Con questa scatola Veramente stupenda Era più bella? Era più bella? Ah te ne vai? Brava Ti conviene andartene Brava Che figura In ogni caso Andiamo a deboxarla Che sarà una cosa complessissima E ci metterò un'eternità Guardate che esperienza di unboxing Meravigliosa Questa bambola Ha veramente Guardate un'esperienza D'unboxing Che è fantastica La bambola Alcuni accessori Sono già usciti E anche il secondo vestito Ma prima di guardare Kate Iniziamo subito Con quello che arriva con lei E la prima cosa È questo cappello Completamente fucsia Molto bello Di stoffa Morbidissimo È stato realizzato In un modo impeccabile Guardate tutti gli orli Tutte le cuciture Anche l'interno foderato Meraviglioso Cosa c'è? Cosa? No? Lo sai che non posso dire Che fa cagare È la verità La verità è soggettiva Fa cagare È di plastica Non è di plastica È stoffa Guarda che Kate Ha solo cose bellissime Le tue erano più belle Guarda che riprendo Vuoi che riprendo il video? Eh, vedi? 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 Poi con lei c'è anche questa spazzolina A forma di giglio Credo che sia un giglio È proprio una spazzolina Anche questa Meravigliosa Di super qualità Guardate la plastica Addirittura c'è questa esperienza di gioco Che se pieghiamo la plastica Diventa bianca Per poi tornare Dello stesso colore di prima Più o meno Però guardate Diventa bianca E poi torna Bianca Bianca Poi ci sono queste unghie stupende Attaccate a questo cuore Bellissime Non vedo l'ora di provare a mettermele Vediamo se ce n'è una Che potrebbe andarmi bene Forse questa No, è piccola Questa Ecco, forse questa qui Bellissima Non vedo veramente l'ora di metterle Con la meravigliosa colla indotta Non c'è la colla Dimmi Eh, l'ho visto che non c'è la colla Non c'è proprio la colla Quindi hanno messo le unghie Ma non la colla no E quindi cosa ce ne facciamo di queste unghie? No Dai Non possiamo ficargliele Dai Non posso dirgli Le le fichiamo super il culo Tiffany, dai cazzo Allora Le vuoi tu queste unghie? Stai pensando? Oddio mio Se pensi mi fai paura Ci pensi? Mmm Tu di solito rubi Non pensi? Ma ok E poi c'è questo secondo outfit Che è un vestitino Molto bello Addirittura messo sopra Ha un appendio abiti Un appendino sagomato Guardate che meraviglia Una qualità pazzesca E il vestitino è completamente rosso A pois bianchi Con queste spalline rosa Che direi che ci stanno Veramente benissimo Con questo rosso Il tessuto è meraviglioso Di una morbidezza infinita E anche questo credo che possa avere un secondo utilizzo Tipo per grattare il formaggio E dietro ha l'apertura con il velcro Ovviamente di un colore perfettamente abbinato al vestito Marrone cacca Stavo quasi dimenticando che c'è anche la borsa Completamente fucsia Bellissima Ma anche lei di una plastica meravigliosa E anche lei con quel giochino Che se andiamo a piegarla un pochino Poi diventa bianca Guardate che meraviglia Queste cose sono proprio di qualità Si vede proprio la qualità E in più si può anche aprire Vedete Si può aprire Per metterci dentro quello che vogliamo E' proprio voluta questa cosa Così possiamo inserirci tutte le varie cosine Che arrivano con lei Tipo il fiore Bellissimo o no? Ma passiamo invece a Kate Che è uno splendore a dir poco E iniziamo dal suo viso Il suo viso ha un colore leggermente più chiaro Con fronte al corpo Per darci proprio questa idea Di geisha Di donna sensuale E' tutto voluto E' tutto molto voluto I suoi occhi sono bellissimi Completamente azzurri Cosa c'è Tiffany? Ha gli occhi stampati Non sono sta... No? Non sono storti Ma santo cielo Sono stampati in alto No! Vedi che è per fare quell'effetto Un po' più malinconico Sono stampati di merda Dici? No! E' malinconico Vedi? Fanno un po' l'effetto lacrima No! 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 Tra un po' la lacrima Gliela faccio scendere io Vai via dai Vai via Comunque dicevamo che i suoi occhi sono azzurri Con sopra gli occhi Un ombretto rosa E le sue sopracciglia Sono dello stesso identico Colore di capelli Infatti sono rosse Arancioni Caccarella Non indossa blush Perché non è più di moda E invece il suo rossetto E... Perché si sta avvicinando? Oddio che ansia E... Kate? Dove? Kate? No no Kate vai vai No eh Ne ho già una Sì Tiffany Lo so Che l'ho presa come su... Eh sì Mi sta facendo il verso Volevo una sostituta No 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 I capelli No i capelli I capelli dopo I capelli dopo Togli quel braccio Non mi devo spaventare Ma Cristo Mi sta venendo in faccia Dai vai via Ok Sulle labbra Indossa un rossetto rosso E le ha leggermente aperte In questo sorriso Ok Ok Ma perché ti stai muovendo? Vabbè Non è lo stesso Alle orecchie Non indossa alcun tipo di orecchino Ma ha i buchi per le orecchie Quindi potremo metterle noi Gli orecchini Cosa molto importante In più I suoi capelli Ma stai No Ti ho detto di stare indietro Per piacere Madonna Tutte queste bambole Ok Guardiamo i capelli I suoi capelli sono bion... No Scusate Mi ho detto che sono uguali Le sopracciglia Quindi sono rossi Cosa c'è? Eh Lo so che non è vero Che sono rossi E sono biondi Ma prima ho detto Che sono uguali Sì Perché Tiffany Dovrebbero essere uguali Di solito le sopracciglia Ma ci stiamo discutendo Sul serio Sulle sopracciglia di Kate Eh Tiffany Cioè non possiamo discutere Sulle sopracciglia di Kate Eh Per piacere Cosa? Cos'è che si sta avvicinando? Oh Cristo Kate Per piacere Stai lì Tiffany Tu vai via Perché Mi distrai E poi non vedo Cosa fa questa Kate Kate Basta Ti ho detto Per piacere Ho i brevidi Ho la pelle d'oca I suoi capelli Sono biondi A tutti gli effetti A ragione Tiffany Raccolti in questa meravigliosa Coda di cavallo Qui in alto Sono molto lunghi Vedete che le arrivano Fino alle spalle E in più sono morbidissimi Infatti Se noi prendiamo Kate E andiamo a metterla A testa in giù Come vedete Sono davvero Molto molto morbidi Anche in questo caso Ovviamente È un'esperienza sensoriale Lei ha i capelli Antigravitazionali Perché è speciale E ha i superpoteri In più Sono queste ciocche Un pochino più lunghe Che sono assolutamente Volute E servono per fare Delle acconciature meravigliose Ci sono proprio Delle ciocchettine Qui un po' più lunghe Che sono fantastiche Cosa fai? Cosa fai con quella mano lì? Cosa stai facendo? Tiffany 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 Basta 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 Ecco lo sapevo io Lo sapevo io Ma cosa fai? Vai in giro Con i suoi capelli In mano Ma Scusa eh Non te li devo portare via Vuoi? Vabbè Io non so cosa dirti Se vuoi i suoi capelli Basta che ti rivede le balle Così vado avanti Per piacere Cioè adesso si mette anche A rubare i capelli Chissà che cacchio vuole fare Ma riportiamo qui Kate Per piacere Perché volevo andare a toglierle L'elastico per vedere Quanti capelli Ha in testa Perché sicuramente Si vede già che ne ha tantissimi E molto resistenti E wow Guardate Sono veramente Veramente Tantissimi Si possono fare Un sacco di acconciature Con lei Guardate E in più c'è anche questa sorpresa Che è sempre un gioco Avete presente Quando ci si spella il sole? Ecco Si può fare questo gioco Con questa Kate È bellissima Cosa fai adesso Tiffany? Dimmi Ma cosa Cosa hai fatto? Tiffany Ma cosa hai combinato? Ma perché? Cosa? Non ci voglio credere Kate Ho capito Porta pazienza Però Non è colpa mia Stai un po' più indietro Guarda Ti ridò anche lo stand Così stai al tuo posto Per piacere Ok? Stai lì Per piacere Ferma lì Un attimino Che parlo con Tiffany Tiffany Vini qua Per piacere Vini qua Mi dici cosa stai facendo Con questi capelli? Le stai preparando Cos'è che le stai preparando? Le stai preparando il letto Cioè? Cosa vuol dire Che le stai preparando il letto? Il letto Ma no Di Tiffany Per piacere Non puoi dirmi queste cose La fodera Per stare più comoda In che senso Per stare più comoda No Tiffany Ho capito Cosa intendi Ti prego Dai non dire cose così brutte Sì che sono cose brutte Sono cose bruttissime Vai via Per piacere Oddio mio Kate Eh scappate anche Tiffany Kate per piacere Non puoi farmi queste cose Ti giuro Mi fai venire la pelle d'occa Oddio mio Che ansia Mettete il centro Grazie Allora ragazzi Cerchiamo di concludere in fretta Questo video Che sono già abbastanza spaventato Comunque lei Quando arriva fuori dal box Indossa un vestitino Molto anni 70 Con questa stampa Bellissima Molto bella Di nuovo Le spalline rosa Perfettamente abbinate Al vestito bianco Verde arancione E rosso Bellissimo Anche questo vestito Dello stesso identico tessuto Guardate che orlo Che ha questo vestito È meraviglioso E anche questo Ha dietro L'apertura con il velcro Ovviamente Abbinata al vestito Infatti è blu E rossa Fantastico Ai piedi Indossa invece Queste scarpe Molto belle Che sono esattamente Le scarpe che aveva Tiffany Cosa c'è Come non avevi Sì che avevi queste Tiffany Andiamo a vedere il video Va bene Allora andiamo a vedere il video Adesso guardiamo il video Dai Vediamo Come scarpe indossa Questi bellissimi Sandali con il tacco alto Quindi Vedi che ho sempre ragione io Quindi anche le scarpe Ci fanno capire Che questa potrebbe essere Una degna sostituta Di Tiffany Ma adesso io andrei A spogliarla Così vediamo benissimo Il suo corpo Ah volevo anche farvi notare Che il suo vestito Qui ha questa apertura Strategica Molto comoda Con addirittura L'orlo a zig zag E anche questa Kate Esattamente come il primo corpo Di Tiffany È super articolata E con una plastica Veramente di qualità Infatti è articolata Alle spalle Ha una spalla Alle Ma cosa c'è qua dietro Tutti i capelli Vabbè Ok Alle anche Ha un'anca Ok Ormai mi faccio andare bene Qualsiasi cosa In questo video Perché veramente Non so più cosa dire Alle ginocchia Alla caviglia E anche Ha il gomito Per non parlare Ovviamente Dell'articolazione Qui al Ma Cosa è successo Tiffany Eh Come cosa c'è che non va Non lo vedi Cosa c'è che non va Come no Cioè Tiffany Capelli Un vestito Un altro vestito Tutti gli accessori Ma non c'è Kate Dov'è finita Kate Che ansia Tiffany vieni qua Che con te poi parliamo dopo Eh io non saprei ragazzi Questo è il corpo di Tiffany Ma non trovo la testa Cioè il corpo c'è ancora tutto Le scarpe Tutto ma non Quindi io direi che Vi saluto Cosa c'è qua Cosa c'è qua sotto Ma cosa sta succedendo oggi Oddio ne succede un ogni secondo Cioè io non me ne accorgo No vabbè ragazzi È proprio Halloween Cioè io Non lo so Non so cosa dire Io direi davvero che vi saluto Cos'è Chi è Sono le scarpe di Tiffany Ma Tiffany è lì Io ragazzi vi saluto Vi mando un bacione Ci vediamo al prossimo video E buon Halloween E buon Halloween